Cari amici e cari amiche, chi ha visto il video di ieri 2 aprile 2023 sul secondo canale YouTube ha potuto constatare quanto la tematica della terra piana, attraverso il discorso del primo ministro canadese Trudeau, inizia a diventare un fastidio per le enormi menzogne che l'elite non riesce più a contenere attraverso i burattini non eletti che stanno al comando di tutte le nazioni. Quelli che seguono sono alcuni vostri commenti e vi ringrazio di averli postati. Se la terra è tonda perché preoccuparsi così tanto di chi crede il contrario? Chi spende un po' di tempo della sua vita per dimostrare che il cerchio è rotondo o che il sole scalda? Se si impegnano così sulla forma della terra è perché vogliono nascondere la bugia, la più grande di tutte. La terra è piana e mentre il Big Bang è scaturito per caso la terra piana implica un creatore ed il male lavora per allontanarci da Dio. Caro primo ministro canadese, i ricercatori della terra piana continuamente portano dati, fanno rilevamenti ed esperimenti che portano ad un'unica risposta e cioè che la terra è piana ed immobile ma i mass media continuano ad ignorarli. Questo Trudino si preoccupa di noi sottolineando che mai nella storia persone avessero messo in dubbio che la terra è tonda. Beh caro Trudino, è anche fra i leader mai nella storia si sono visti tanti pagliacci, persino il più folle che la storia ricordi non ha mai esportato tanta porcheria e degrado in vita sua. Voi andate contro natura e credete che esistano più generi quando per me esiste soltanto l'uomo e la donna e gli squilibrati magari per voi siamo noi. Dimostra che la terra è tonda se ci riesci ma non a chiacchiere anche se esistete soltanto per fare quelle. Dimostra che esistono più generi. Ippocrita, adesso i pazzi fanno le diagnosi ai sani, metafora. Lo specifico perché nel normale parlare mi escono in maniera del tutto naturale. Tutti gli pseudoscienziati nelle loro conferenze per darsi importanza iniziano col dire non sono un terrapiattista ma facendo così stanno dicendo che c'è del vero sulla terra piana. Infatti tutti sappiamo che gli asini non volano e mica lo sottolineiamo. Sta cosa della terra piatta sta diventando veramente enorme e non sanno più come fermarla. C'è da giurarci che proveranno ad usarla come scusa per limitare ancora di più la libertà di parola e di pensiero. Il secondo già seriamente compromesso con la pandemenza. Iniziare a credere a qualcosa che non è vero sta creando veri problemi e porta la nostra società in posti spaventosi? Tipo? Un esempio di uno di questi posti spaventosi? Il ridicolo non è lui ma è chi non ha fatto questa domanda mentre parlava. Bene e adesso ascoltiamo quello che ha detto il dirigente della società dello stato canadese Mr. Trudeau. Afferma che prima della pandemia era affascinato dall'idea dei terrapiattisti. Balla chi indaga e comprende che la terra è piana e che è falso non torna più indietro. Afferma che è un fenomeno completamente nuovo. Balla. Fino al 1926 a scuola insegnavano che la terra è piana. Cercate ad esempio articoli sulla terra piatta a ritroso sui vecchi giornali 1 e 2 e vedrete su carta stampata che negli istituti Voliva insegnavano la terra piana. Parla di Cristoforo Colombo che è andato a scoprire l'America e che non avevano paura di cadere dal bordo mentre in realtà cercava la scorciatoia per le Indie. Ma un momento se già 1600 anni prima Eratostene aveva calcolato il raggio della terra come ha fatto Colombo a sbagliare così tanto la circonferenza? Aggiungo Eratostene come ha fatto a calcolare il raggio della terra senza conoscere la distanza del sole che nel tempo hanno cambiato un sacco di volte? Trovate la voce distanza del sole nei secoli pdf su indice alfabetico. Trovate inoltre diverse voci per capire quanto ci hanno e ci stanno prendendo in giro con la favola di Eratostene. Aggiungo che nel 2017 dopo le analisi dei ricercatori della terra piana dove dimostravano che non poteva succedere l'eclisse del 21 agosto in quel modo gli scienziati della NASA hanno pensato bene di cambiare il diametro del sole. Ma questa è un'altra storia. Tornando a Colombo non dimentichiamo che la festa del Columbus Day dal 2017 non sarà festeggiata. La festa nazionale dedicata a Cristoforo Colombo sarà rimpiazzata da una giornata per commemorare le popolazioni indigene, aborigine e native vittime del genocidio compiuto proprio dal navigatore genovese. Osservate dove si sta muovendo Trudeau in un ambiente con manometri antiquati al posto di strumenti digitali proprio per iniettare continuamente nella mente di chi guarda che i vecchi scienziati inventati e studiati sui libri di scuola erano geni con le loro teorie mai dimostrate mentre le ricerche fatte dai liberi ricercatori con gli strumenti attuali a disposizione rilevano le bagianate diffuse per tenere l'uomo schiavo nel credere idee diverse dal vero regno che ci ospita. Dice anche che abbiamo inviato l'uomo sulla luna quando tutte le indagini dimostrano che non era e non è possibile oltre al fatto che non sono più stati in grado di farlo. Hanno addirittura sacrificato un uomo nel fingere di distruggere un equipaggio con la scusa di fermare i finti viaggi per la luna. Cercate su indice alfabetico Disastro Challenger Columbia. Afferma inoltre delle foto fatte alla terra dallo spazio quando addirittura la loro intelligenza artificiale dice che non esiste una sola fotografia della terra dallo spazio. Cercate chat GTP non è poi così intelligente oppure Photoshop per disegnare terra e i pianeti Robert Simo. Trudeau dice anche che con la terra tonda spiega giorno notte e stagioni. La terra piana lo spiega meglio esimio signor burattino dell'elite. Un abbraccio e cercate la verità slacciandovi dalle bagianate del sistema. Spegnete TV, spegnete i device, tornate nella natura e camminate liberi nel nostro meraviglioso regno piano. Dino.